Ben trovati al TG6, apriamo con la cronaca, è precipitato per 40 metri prima di impattare al suolo, non c'è stato nulla da fare per Alessandro Angelucci, 34 anni di Pescara, morto ieri pomeriggio in Turchia. Nel corso di una escursione, Alfredo Primante. Sono state forse le scarpe bagnate o più probabilmente una disattenzione a causare la morte di Alessandro Angelucci, 34enne professore pescarese di storia bizantina all'Università d'Annunzio di Chieti, che ieri pomeriggio è volato giù da un burrone per 40 metri in Turchia, dove stava effettuando un'escursione nella zona naturalistica di Kokali, 200 km a sud-est di Istanbul. È successo tutto in pochi istanti, Alessandro stava bevendo da una bottiglietta d'acqua, poi ha fatto un passo ed è caduto. È il racconto di una testimone, una ragazza a zera che si trovava a poca distanza da Angelucci al momento dell'incidente. In Turchia il professore pescarese era giunto venerdì come group leader in un progetto sulla prevenzione dalla dipendenza delle droghe, che ha riunito 35 persone di diversa nazionalità. L'escursione a Karasau era tra le attività ricreative previste con lui dall'Italia. Erano giunti in Anatolia quattro giovanissimi partecipanti, tre minorenni, tra cui due ragazze ed un ragazzo, e un 22enne originari del Viterbese. A organizzare la loro partecipazione al progetto della ONG turca, Karjenk, è stata l'associazione Prometheus di Viterbo. I quattro ragazzi, che come gli altri membri del gruppo hanno ricevuto assistenza psicologica dopo l'incidente, dovrebbero rientrare in Italia domani. Per Alessandro Angelucci invece si dovrà aspettare l'esito dell'autopsia disposta dalle autorità giudiziarie turche che si svolgerà a Istanbul, poi ci sarà il rientro in Italia e in Abruzzo. E a Pescara la movida notturna provoca ancora lamentele, esattamente in via Muzzi, esercenti e residenti continuano a denunciare schiamazzi e danneggiamenti ai negozi durante le ore notturne. Francesca Romana Testi E questo è in ordine di tempo l'ultima vetrina spaccata nella notte. Si parla della movida di Piazza Muzzi e gli esercenti che si trovano proprio in questa via, quella adiacente all'ingresso del mercato coperto, parlano di un fenomeno che ricorre spesso. Piazza Muzzi è ancora al centro delle polemiche. Dopo il restyling che prevedeva una nuova era per l'intero quartiere, oggi a sovrapporsi sono più voci. Da un lato quella dei residenti che lamentano schiamazzi notturni e dall'altro quella degli esercenti che sono vittime di danneggiamenti dei locali. Beh, ultimamente ci sono state frazioni nei locali della zona, più che altro danni, che però danno fastidio. Tutto questo è riconducibile al periodo in cui è stata rinnovata la piazza e si è spostata alla movida? Beh, sì, più o meno. Questi episodi prima non accadevano, erano molto più sporadici. C'è la gente che va a dormire presto, perché la mattina si deve alzare, naturalmente vuole dormire la notte. È una preoccupazione l'estate adesso? Se qua, come l'anno scorso, faranno, mettono la musica, quelli che ballano, allora va bene, perché è anche bello vederlo. Ma se certamente lasciano così, ognuno fa quello che vuole. Lamentali arrivano anche dagli esercenti del mercato coperto, che dal canto loro soffrono la riduzione dei parcheggi, che limiterebbe molti clienti. All'inizio sono stati per i lavori, perciò ci hanno portato dei danni enormi. Abbiamo perso un parte dei nostri clienti. E in più a noi ci ha creato dei problemi, perché non c'è più viabilità, non c'è parcheggio, non c'è accesso al mercato come c'era una volta. La spesa, fare la spesa pesa, non è lo shopping. E più che altro c'è la sporcizza, ci ha creato altri problemi. Già questo mercato aveva delle sue problematiche, c'era qualcuna di più. Anche se l'amministrazione cerca di risolverli, non è che l'amministrazione sta con le mani in mano. Però i problemi ci sono. E oggi a Teramo, seduta della Commissione Bilancio sull'onda del predissesto, che potrebbe essere un atto dovuto, intanto c'è attesa per la nuova giunta. Nel corso della seduta odierna della Commissione Bilancio, la verità sul modo di amministrare della giunta Brucchi, secondo il Movimento 5 Stelle, è finalmente venuta a galla, con l'aiuto del parere dei revisori dei conti. La situazione di cassa del Comune è talmente drammatica che sia il dirigente finanziario che i revisori dei conti consigliano una procedura di riequilibrio finanziario, cosiddetto predissesto, la quale potrebbe portare solo benefici, parole del dirigente, all'ente comunale. Se non si seguirà questa strada, afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini, le future amministrazioni non saranno in grado di governare a causa del grosso debito lasciato da Brucchi e dai membri della maggioranza. E intanto c'è attesa per l'annuncio della nuova giunta dopo il tavolo politico previsto per domani sera. Sindaco, in attesa del terzo tavolo politico, ha le idee più chiare? Guardi, io le idee chiare ce le ho avute sempre. È chiaro che c'era necessità di questo confronto. Io devo dire che questo tavolo politico è stato davvero un tavolo politico proficuo che ha focalizzato la problematica e si è adoperato per risolverla. Le liste mi avevano chiesto qualche ulteriore giorno per poter fare gli approfondimenti e gli è stato concesso. Mi sembra di capire che tutti, dico tutti, nei documenti di ognuno delle liste dei partiti c'è la voglia di andare avanti, di evitare il commissariamento. E poi l'organigramma è chiaro che la sintesi tocca farla al sindaco. Mi hanno chiesto discontinuità e c'è stata. È stato chiesto azzeramento della giunta e c'è stata. È stato chiesto una rivisitazione aria fresca e ci sarà per cui ritengo che tutto quello che mi è stato chiesto in qualche modo io consapevolmente ho portato avanti. L'annuncio è entro settimana? Sì, sì, sicuramente è entro questa settimana. Non possiamo più aspettare. Nella giornata di oggi assemblo un po' questa piattaforma programmatica. Domani sera alle ore 19 la ripropongo a tutti i partiti e poi passiamo alla fase dell'organigramma. Il clima è sicuramente sereno. È un clima che prelude, secondo me, a un rinnovato entusiasmo e anche a uno slancio di ripartenza che forse è mancato negli ultimi mesi e negli ultimi anni. È un segnale, secondo me, anche a garanzia di quello che è il bene comune, il senso di appartenenza. Insomma, si sta recuperando, secondo me, una lettura anche complessiva che ci aiuterà a concludere bene questo mandato. Il sindaco di Pescara replica al centrodestra che ieri ha organizzato una raccolta firme contro l'arrivo di 100 migranti in città. Marco Alessandrini ribadisce la vocazione all'ospitalità della città lanciando nuove politiche di integrazione. Il centrodestra si scaglia contro il sindaco di Pescara per il caso immigrati. Proprio ieri si erano riuniti per una raccolta firme che impedisse l'arrivo di nuovi ospiti in un albergo del lungomare sud di Pescara. Un colpo all'economia del turismo, secondo Lorenzo Sospiri e Fabrizio Rapposelli. A rispondere oggi è Marco Alessandrini che li accusa di strumentalizzazione politica. La verità è naturalmente diversa. Il sindaco non ha una competenza specifica sul punto che è competenza del Ministero dell'Interno. Qualche numero che aiuta a capire i termini della questione. L'Abruzzo al pari di Trentino, Alto Adige e Sardegna ospita il 2% dei migranti in Italia. Siamo al penultimo posto nella classifica, l'ultimo è la Basilicata che ne ospita l'1%. Detto questo, la questione nasce dalla disponibilità resa da alcune strutture alberghiere ad ospitare migranti. E quindi essendoci questa disponibilità resa d'inverno, essa permane d'estate. Nessuna modifica la politica dell'ospitalità, ribadisce il sindaco, che annuncia anche l'introduzione di attività di integrazione. E' forse un caso piacevolmente fortuito, ma proprio oggi 15 migranti ospiti delle strutture della Caritas iniziano lavori socialmente utili presso il comune per in qualche modo restituire alla comunità che lì ospita un servizio e per favorire l'integrazione. Revocato lo sciopero regionale di 4 ore del trasporto locale proclamato dalla Filt CGL Abruzzo per il 10 giugno, lo rende noto lo stesso sindacato. Le motivazioni della revoca, si legge in una nota, sono fondamentalmente ascrivibili ad una serie di atti formali ed impegni assunti dalla Regione rispetto alle rivendicazioni oggetto dello sciopero regionale sul trasporto locale, ovvero il ripristino di risorse da destinare al settore. La predisposizione di una legge per l'individuazione dei servizi minimi essenziali, la realizzazione, entro la fine della corrente legislatura, del sistema tariffario unico regionale. E la Procura di L'Aquila ha chiesto il processo per 29 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta nata dopo il crollo di un balcone del progetto case. Giorgio Alessandri. Il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Roberta Davoglio, ha chiesto il processo nei confronti di 29 indagati nell'inchiesta sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cese di Preturo, una delle 19 del progetto case, il mega insediamento realizzato dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per dare un tetto a oltre 16.000 aquilani, alloggiati in circa 4.500 appartamenti. Il crollo è avvenuto il 2 settembre 2014, quando un balcone in legno si è staccato dal terzo al secondo piano a causa del materiale scadente e difetti strutturali nelle costruzioni, come accertato dalle perizie dopo un anno di indagini. A seguito delle verifiche, infatti, è emerso che i balconi furono costruiti con legname non idoneo, senza collanti, senza certificazioni, montati con inferriati malmesse e differenti rispetto alle previsioni del progetto. Dai sopralluoghi dei periti e tecnici fu riscontrata assenza di guaine e altri requisiti tecnici, fino a quando una delle terrazze è marcita ed è crollata. E ancora, una fornitura illegale che ha configurato una truffa ai danni dello Stato di ben 18 milioni di euro. L'operazione di sequestro, portata avanti in conseguenza del crollo dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato dell'Aquila, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e della sezione di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura, ha portato ad apporre i sigilli su 800 balconi in 494 appartamenti. Le accuse a vario titolo per tecnici e responsabili della costruzione delle New Town, di Imprese e del Comune dell'Aquila sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. Gli indagati originari erano 37, ma il processo è stato richiesto per le 29 persone citate nel decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella ed è seguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni, equivalente al valore dell'appalto vinto da Futur Aquila, società consortile a responsabilità limitata, costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno degli insediamenti. E sempre all'Aquila, visita questa mattina nei locali del Consiglio regionale dell'ex edificio GIL tutte le modifiche e le tempistiche dei lavori nel servizio di Daniela Rosone. 9 milioni di euro quasi di lavori per riqualificare il palazzo del Consiglio regionale alla Villa Comunale dell'Aquila a 100 giorni dall'inizio dei lavori un tour per valutare lo stato di avanzamento. Una delle chicche del progetto è l'abbattimento come è noto della recensione attuale del complesso con la chiusura di parte di via Michele Iacobucci e la fusione degli spazi attuali con la parte centrale della Villa. Un modo anche per aprire lenti alla città, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Sarà una struttura ricollegata completamente con la città dell'Aquila, quindi attraverso anche la pedonizzazione della strada frontale, la riconnessione del parco della Villa dell'Aquila, quindi diventerà un elemento centrale per la vita non solo pubblica ma anche cittadina di questa città e degli abruzzesi in generale. L'atrio dell'emiciclo cambierà e anche le scale di cemento armato che portavano ai piani superiori scompariranno. La sala Michetti invece diverrà un giardino d'inverno con una copertura trasparente, ha spiegato il Professor Lucio Zazzara, progettista assieme all'ingegner Giacomo Di Marco. Adesso invece si avrà un altro respiro quando si verrà qui, ci saranno le piante, sarà una cosa molto bella perché questa copertura sarà trasparente, quindi sarà un ambiente soprattutto nella cattiva stagione molto piacevole per chi si troverà dentro l'emiciclo. Spazio anche a biblioteca e pinacoteca per riorganizzare l'immenso patrimonio librario della regione Abruzzo, di circa 7000 volumi, come aveva annunciato il Direttore del Consiglio Paolo Costanzi, grazie al lavoro di Rita Centofanti. Di pancrazio, anche ricordato come l'ex Gil, andrà per l'85% dei suoi spazi al Gran Sasso Science Institute. A realizzare i lavori è un ati di imprese, capeggiata dall'aquilana Rosa Edilizia, con ricci costruzioni e elettroidraulica Silvi. L'ingegner Riccardo Vetturini, coordinatore tecnico dei lavori, ha spiegato invece la strategia dell'isolamento sismico, che prevede un intervento importante a livello di fondazione per isolare il fabbricato dal terreno. L'obiettivo ora è sbloccare altri 2 milioni di euro, per il famoso ascensore 500 mila euro, che dal megaparcheggio di Colle Maggio possa portare al centro dell'Aquila in 60 secondi i miei giardini e per altre opere del Consiglio regionale. Ovviamente tutto è in divenire, ma la struttura del complesso monumentale non andrà toccata, questa è una certezza. Torniamo a Pescara, incuria e degrado a Borgo Marino Sud, lo storico quartiere dei pescatori, versa in condizioni pessime, i residenti denunciano la latitanza delle istituzioni. Una denuncia per degrado e abbandono, muri con evidenti segni di umidità, crepe sulle facciate, sporcizia nelle aiuole erba alta, la minaccia dei topi bloccata con delle improvvisate gittate di cemento e un'intera comunità che chiede sicurezza a pescare i residenti di Borgo Marino Sud esprimono tutta la loro esasperazione. Cambiata la giunta e chiaramente loro dicono che si sono ritrovati in un pozzo di guai e hanno tolto gli 810 mila euro stanziati per questi tre palazzi ad altri quartieri. Dopodiché ci torsero anche i 176 mila euro per il centro sociale nella piazzetta adiacente via Town de Revel, dietro l'altro palazzo. Nel vecchio ci ripetè il discorso che servivano per altre cose più indicate. Non compare tra le graduatorie per lo stanziamento di fondi. Borgo Marino non è mai citata, eppure il suo stato di degrado è evidente e la sua posizione è adiacente proprio a una zona votata alla Rinascita, e cioè l'area dell'ex cofa, dove spicca il simbolo di Pescara, il ponte del mare. Uscì una comunicazione del comune di Pescara dove elencarono tutte le zone, i quartieri popolari, dove andavano spese questi maledetti soldi. Non maledetti, maledetti per noi, maledetti per gli altri. E non siamo gelosi o invidiosi però, c'è un po' ciascuno. È una situazione dove i palazzi sono pericolanti secondo voi? Sono molto pericolanti. Qui sotto c'è spazio, c'era spazio, per non far salire l'umidità sopra. Adesso è pieno di topi e di acqua e di sabbia, giustamente. Cambiamo decisamente argomento. Oggi è il quarto compleanno di Noemi Sciarretta, la piccola che combatte contro la Smile. Padre Andrea, per festeggiare, le ha scritto una lettera aperta come inno alla vita. Ascoltiamo. Principessa, oggi compi quattro anni. Piccolina è passato un altro anno, un anno dove giorno per giorno, in ogni istante combatti contro la SMA, affinché prevalga la vita. Per te, dolce piccola Noemi, è stato un anno molto duro, faticoso, fatto di coraggio e determinazione nel combattere la malattia, ma anche di momenti nuovi ed emozionanti, come il tuo primo giorno di scuola materna. Ti sei ammalata spesso. Quando stai male soffri, per noi, diventa tutto più difficile, un semplice colpo di tosse, inghiottire la saliva, respirare per te è impossibile. Per questo ci desideri ogni istante, accanto a te. La tua giornata è piena di terapie e trattamenti che a te non piacciono e tolgono tempo al gioco e alle cose belle. Perché tu ami giocare, Noemi, nonostante tutto riesci ad essere felice. Rendere felici noi e chi viene a conoscerti perché è impossibile non innamorarsi dei tuoi bellissimi occhi. Come quando ti abbiamo portato per un giorno all'asilo, un giorno che hai chiesto tu, innamorandoti dei tuoi amichetti che, con un sorprendente entusiasmo, ti hanno accolto senza mai pensare alla tua disabilità, ma abbracciando il tuo essere speciale. Ci insegni la vita ogni giorno, trasmettendoci che, malgrado non sappiamo cosa ci riservi, non bisogna mai perdere il sorriso dell'essere vivi. Ti auguriamo di raggiungere presto l'atteso traguardo di gioia, serenità e salute, che arrivi la tua rivincita e che i tuoi più intimi desideri, custoditi nel tuo cuore, si avverino. Continua a guidarci nel meraviglioso viaggio che è la vita, ma soprattutto con il tuo amore e la tua felicità. Sconfiggi la SMA, come ci insegni tu, dolce piccola Noemi, senza mai arrendersi. Tanti auguri di buon compleanno, nostro splendido amore, mamma, papà e Mattia. Abbiamo argomento, la sfida all'imprenditoria femminile, la Confcommercio di Pescara questa mattina ha presentato il gruppo dirigente terziario donna e le iniziative per lo sviluppo imprenditoriale delle aziende rosa. Vediamo. Una sfida all'imprenditoria tutta femminile, vengono portati anche dei dati di quelli che sono nel comune di Pescara, il territorio del Pescarese e le attività più utilizzate, soprattutto dove investono di più le donne. Il quadro qual è? Il quadro è decisamente positivo, infatti abbiamo un aumento, proprio sia come dato occupazionale, ma sia come dato di investimento. L'unica pecca è ancora l'accesso al credito, soprattutto nella fase dei finanziamenti e nel ricevere poi quanto richiesto, perché a volte le cifre sono nettamente inferiori e quindi questo può essere un po' da contrasto allo sviluppo poi completo e pieno dell'azienda rosa, in questo caso. Qual è il progetto, il programma che viene proprio messo in campo per le donne? Abbiamo partecipato a questo bando del Terziario Donna Nazionale, che è il progetto di una D-Card, dove si sviluppa questo circuito turistico unito al commercio e all'arte, dove la donna turista, viaggiatrice, potrà venire a soggiornare nella nostra provincia e avere in dotazione questa card. Nella card verranno inserite non solo sconti, ma anche gratuità, ma anche percorsi di, non lo so, seminariali, formativi, presentazioni di libri. La card infatti sarà reperita presso le strutture alberghiere, perché nel momento in cui le donne arriveranno nelle strutture ricettive verranno informate con un'apposita mappa che verrà creata in questo circuito e con questa card. Ovviamente tutti i convenzionati, quindi gli operatori che vorranno aderire a questo progetto avranno delle vetrofanie o comunque degli sticker che saranno appunto, diciamo, pro di card. Ultimati gli interventi di ristrutturazione post-sisma, riapre al pubblico il 2 giugno Palazzo Marchesale di Tossicia, edificio storico simbolo dell'antica capitale della Valle Siciliana. Nell'occasione sarà inaugurata anche la mostra della pittrice Naif, annunziata a Scipione. È stato un percorso lungo e difficile per recuperare questo palazzo, perché le opere pubbliche, quando c'era la gestione della protezione civile, non venivano finanziate. Successivamente è nato l'ufficio centrale per la ricostruzione, dove noi abbiamo presentato un preliminare per chiedere il finanziamento, ma subito, quando siamo arrivati al dunco, c'è stata la trasformazione dell'USRC, l'ufficio speciale per la ricostruzione, dove i fondi per il recupero delle opere pubbliche ancora erano pochissime. Un accordo fatto con gli altri sindaci, il ricordo, Pietra Camela, Fanadriano, Castelli, Colledara, Arsita e Penna Sant'Andrea, hanno dato l'assenso, praticamente hanno dato la priorità a questa grande opere di Tossicia. Il 2 giugno alle 10 di mattina riaprirà i battenti il Palazzo Marchesale, con il raduno delle autorità civili e religiose presenti nel territorio e con l'occasione ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione che rimarrà per 10 giorni aperta al pubblico all'interno della sala consigliare del Palazzo Marchesale, delle opere della pittrice locale annunziata a Scipione. Abbiamo con piacere aderito alla richiesta del direttore del museo di realizzare un prodotto che serve per portare il museo a tutti, ai bambini, ai diversamente abili, nel pianeta, a tutti coloro che avranno modo di conoscere questa realtà, che pur essendo piccola, ha un grande valore, sia con il tour virtuale dei principali elementi architettonici di Tossicia e poi con questa idea di portare i quadri di Annunziata a Scipione nel mondo attraverso un tour completamente virtuale. Passiamo alla pagina sportiva. Domani sera la semifinale di ritorno tra Pescara e Novara. Ci saranno alcune novità tra i biancazzurri rispetto all'andata con Crescenzi in difesa e l'assenza di Memushai che ora in nazionale tornerà disponibile solo per l'eventuale finale di andata di domenica. Possibili sostituti Bruno e Pasquato in quest'ultimo caso Benalì agirebbe da mezzala. Comunque sia il tecnico Massimo Oddo non vuole cali di tensione e punta dritto alla vittoria. Ascoltiamolo. Il mister De Biace ha bisogno di fare un amichevole probabilmente farà un tempo il tre e poi tornerà. Quindi certamente sarà con noi per la semifinale di alba. Per il ritorno no invece? No, il ritorno no. Domani dobbiamo entrare in campo facendo la nostra gara come abbiamo sempre fatto. Poi se Novara non ce lo consentirà useremo altre armi ma noi entreremo certamente in campo non per il pareggio non per perdere 1-2-0 ma entreremo in campo per vincere. Se cambierò qualcosa non è un TUN9 se cambierò qualcosa è perché ritengo che altri giocatori possano in una partita di domani essere più utili. ma il TUN9 non esiste. Novara ha una sua precisa filosofia di gioco una sua precisa identità ed è un pregio questo perché al di là poi dell'essere del piacere o non piacere ci sono tante filosofie nel calcio che portano ai risultati ma una cosa è certa che il Novara è una di quelle squadre che ha una precisa identità e quindi come le nostre armi sono il fraseggio la palla a terra la verticalizzazione quelle del Novara sono altre altre qualità che sfrutta sempre bene poi nell'ultima partita siamo stati bravi noi a non concedere ma sono le loro armi. Ma che ci sia nell'ambiente nei tifosi nei mass media e quant'altro ne sono contentissimi ne sono contentissimi ragazzi anzi più ce n'è meglio è i tifosi possono essere euforici quanto vogliono il problema è se euforici troppo lo sono i miei giocatori i miei giocatori non devono essere euforici devono essere belli carichi umili consapevoli che fino a domani a fine partita il turno non si è passato ma dobbiamo continuare sulla strada della partita di andata sono 22 giocatori convocati dal tecnico del Novara Marco Baroni rientra Dickman che sarà in campo al posto di Dell'Orco a sinistra conferma per Garofalo Vicari giocherà al centro al posto dello squalificato Trest nonostante il passivo dell'andata Baroni chiede ai suoi una prestazione importante all'Adriatico Cornacchia per riaprire i giochi No di sistema di gioco no sicuramente qualcosa nell'undici iniziale cambieremo ma anche un po' per il tanto c'è il rientro di Dickman alcuni giocatori che hanno comunque in queste ultime due gare dato molto insomma vediamo qualcosina però cambierà poco la cosa importante è chiaro che sappiamo che il risultato dell'andata ti penalizza tanto però dobbiamo essere anche convinti di andare a fare una partita vera da parte nostra ma guarda ha visto a volte prepari le partite come è successo questa in casa e poi dopo escano un po' fuori un po' per le condizioni climatiche un po' per alcune situazioni che si vengano a creare in campo è difficile in queste partite vi abbiamo anticipato bisogna sbagliare poco o niente e poi sulla base di quello fare la gara noi dobbiamo comunque rimanere noi stessi nel senso della compattezza della tenuta di squadra e andando a cercarci qualcosa con grande convinzione e determinazione perché ripeto ci abbiamo 90-95 minuti davanti dove possiamo riaprire la partita andiamo in Lega Pro nel corso della presentazione di ieri del neo direttore sportivo Fabio Lupo il presidente del Teramo Luciano Campitelli ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa scelta ai microfoni Jacopo Forcella il presidente Campitelli ha detto in conferenza stampa Lupo e Zauli hanno riacceso probabilmente una fiammella che si era un po' forse sopita adesso si riparte dunque con un nuovo spirito ma io credo che ce n'era proprio bisogno e prima che l'ha capito è stato Vivarini che è stato colui che che alla fine ci ha dato la strada anche per questo perché noi per come eravamo legati e per quello che lui aveva fatto negli anni sicuramente da parte nostra rimaneva ma lui giustamente dice qui dobbiamo dare un taglio col passato in modo che si riparte quindi devo dire e lo devo ringraziare che alla fine ha avuto ragione perché sia Fabio che il nuovo allenatore Zauli ci hanno un po' riacceso i motori ma sia non solo a noi credo ma anche a tutti i tifosi a Lupo consegnerà le chiavi del mercato è una squadra che per buona parte ha una rosa già fatta però poi bisognerà completarla io ho chiesto a lui quello che ho sempre chiesto a tutti quindi creare le prospettive per fare gol perché col gol tutto è possibile e poi capire quali di questi giocatori vogliono rimanere a Teramo hanno la determinazione avranno richieste diverse quindi noi oggi ci concentriamo per capire cosa offre il mercato ma dobbiamo andare a scovare quelle personalità che poi ci faranno la differenza come sono stati Rapadura e Donnarumma quindi oggi prendere un giocatore finito profilo che alla fine poi se non ti fa gli stessi gol come le noci le noci era un profilo da 12-13 gol e alla fine le noci non ha combinato niente quindi forse bisogna capire quei profili che da un momento all'altro possono esplodere ed essere questi i giocatori corretti e giusti per il Teramo i vertici della società rosso-blu hanno incontrato in comune sindaco e assessori manifestando l'intenzione di presentare domanda di ripescaggio dopo la retrocessione in serie di Giorgio Alessandri la società l'Aquila Calcio 1927 ha avuto ieri mattina un incontro in comune con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e gli assessori Emanuele Iorio e Maurizio Capri erano presenti per la società rosso-blu il presidente Corrado Chiodi il vice Massimo Mancini e lo sponsor Eliseo Iannini l'oggetto della discussione in forma a una nota della stessa società è stato ovviamente la retrocessione della squadra e i possibili scenari futuri legati a questo accadimento la società ha dichiarato che già dalla prossima assemblea dei soci il 6 giugno prossimo si lavorerà per una operazione di ricompattamento ribadendo l'impegno a portare avanti il progetto sportivo con una dovuta ripienificazione e riorganizzazione quanto mai necessaria questo a prescindere dalla categoria nella quale si giocherà attualmente la serie D ma con un lavoro che già si sta avviando per presentare la domanda di ripescaggio nel corso dell'incontro si è parlato anche della questione stadio di acqua santa i cui lavori sono quasi ultimati la consegna infatti tra le altre cose elemento essenziale per la presentazione della domanda di ripescaggio la società rosso blu dunque auspica che la consegna possa avvenire in tempi rapidi e in tal senso ha avuto rassicurazioni dall'assessore Capri anche il sindaco Massimo Cialente si è detto determinato a non lasciare solo all'aquila calcio ed ha sollecitato tempi brevi e immediatezza per risolvere tutti gli ultimi problemi legati alla questione del campo ed è tutto per questa seconda edizione l'appuntamento con il TG6 torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione